buongiorno a tutti quanti da Igon Visintiner per 4Mobiles oggi facciamo un focus sul Huawei G6 su come inserire e togliere in questo caso micro SD e sim partiamo con l'aprire il retto del telefono qui c'è una tacca dove si alza io ho già inserito sim e micro SD quindi adesso sono iniziato a vedere come toglierlo va bene o male è la stessa cosa sul rovescio lo schermino dietro è molto sottile molto morbido mi sembrerà che mi possa restare in mano ad ogni istante ma non è così è abbastanza solido qui abbiamo appunto l'alloggiamento per la micro sim e sotto quello per la micro SD niente di stranissimo semplicemente si fa slittare appunto l'amierino fuori la sim poi si può richiudere la stessa cosa per la SD ovviamente che si alza e poi si sfila vi faccio vedere anche questo punto da che ci sono anche come si inserisce ma anche se mi sembra abbastanza ridondante alziamo l'amierino si aprono come le porte delle rolls richiudiamo e via quando si appoggia su il pannellino facciamo ben attenzione a chiudere ogni aggancio sono svariati è tutto chiuso perfetto un saluto a tutti quanti un saluto a tutti un saluto a tutti un saluto a tutti Grazie a tutti.